Salve a tutti ragazzi e bentornati sulla serie di MeldMax Quello che voglio fare in questo momento, che è un po' che cerco di fare E' raggiungere un convoglio Vediamo un po' se riesco a raggiungere il convoglio E E non so, a colpirlo, a fermarlo O qualcosa del genere E Penso però Di non vederlo già più Non so se l'abbiamo perso O se stiamo andando nella direzione Opposta, no L'abbiamo già perso Vediamo se è andato più veloce Eccolo qua, il convoglio Lo stiamo raggiungendo A questo punto dobbiamo utilizzare una tattica Diversa Ok E cioè voglio andare direttamente Con Oh bastardo Si è il cecchino E poi Voglio andare con l'arpione Cercare di arpionarlo Senza farmi Prendere da questi tipi Mamma mia bello questo qui Ci devo provare A tutti i costi Uh No Così no Non va bene Andiamo con la nitro E adesso andiamo con l'arpione Dai 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 Ce la posso fare Ok ok L'abbiamo Danneggiato Anche se Leggermente E invece No Invece noi siamo Completamente distrutti No Anche questa volta Non ci siamo riusciti Non ci sono riuscito E adesso Dovrò solo Cercare di Non farmi uccidere Da questi malviventi Bastardi Che peccato Che peccato Raccogliamo il bottino Almeno di questo qui Cartuccia per il fucile Niente di più Eh effettivamente Il convoglio Non è Non è facile da Attenzione Attenzione Non è facile Da Da colpire In quanto Sono tante macchine E noi non siamo Molto potenziati Eh sì infatti Voglio provare a stare Su questa Su questa strada Che è un circuito E non so se A quanto A questo punto È su questo circuito Che girano Quindi vediamo un po' Se Riusciamo A A prenderli No Questo è il cecchiamo Se riusciamo A recuperarli A raggiungerli O al limite Effettivamente Basterebbe Farlo Al senso opposto Alla vicissà opposta Però no Ecco Ecco guardate Il convoglio È proprio lì E le macchine Sono sempre Quante prima Quindi È un problema È un problema Così Va bene Cerchiamo di arrivare Velocemente E col più Senza farsi Notare Più di tanto Porca miseria Questo veniva Contromano Eccolo qua A livello Non posso colpire Nessuno Va bene La porta È andata Vediamo un po' Se riesco A mancarlo Andiamo di nuovo Con Il cecchino Togliamo anche Questa porta Siamo a metà vita Dobbiamo Rendercene conto Di questo Bene Bene Andiamo con Di nuovo Con L'arpione Ecco che Riusciamo a prendere Così Il guidatore E questa È un'ottima cosa Uh L'ho scansato Andiamo Ok Ok Forse Un altro paio Di botte Ma Il problema È che Un altro paio Di botte Mi distruggeranno Anche me Ah Cacchio Vediamo un po' Questo posso Distruggerlo Montare magari Su un veicolo E vediamo un po' Se riesco A andargli Contro E finire Distruggerlo Ulteriormente Intanto che Si allontano Da Dalla Dalla mia macchina La Magnus Opus Uh Mi ha scansato Per un pelozzo Qua ci sono Rottami Porca miseria Non scende più Nessuno Sono fritto Via Oh Meno male Vai Scendete Ti piace così? Oh Io sono Super potente Dove è andato Il convoglio No Non mi dire Che il convoglio È scappato Porca di quella E poi troia Io stavo qui E il convoglio è scappato Mi sono lasciato Fregare Come un Maluco Boh Prendiamo Allora Qualche Rottame No È lì È lì È qui È qui È qui Sta arrivando Di nuovo Dai Arriva Coso Porco mondo Porca miseria Mi tocca Ricominciare Da capo Allora Forse La cosa Da fare È prendere Una macchina Alla volta Da La più indietro Ma mettiamo Ah ma Non ce ne sono Tante adesso Ecco Per esempio Così Io potrei Fare uscire Subito il pilota In questo modo Adesso Mi rimane Solo Il convoglio Vieni Piccola No Dove erano Il petrolio Dove Il diavolo Era Ok Vediamo se Adesso Di qui Riesco A colpire Qualcosa Sì Il pilota Riesco A colpirlo No Non più Ok L'ho danneggiato Abbastanza Oh Adesso Dovrei Riuscire A colpirlo Car miseria Sì Bene Bene Mi sta colpendo Anche questa qua E adesso Guarda Mi ha rotto Veramente Oh Molto bene Molto bene Così E adesso Ci occupiamo Del convoglio L'ultimo colpo Yeah Oh Finalmente Dunque Che cos'è Questo Sì Mi piace Installa dietro No no Installa davanti No Installa dietro Sì Mi piace Ma non c'è più Un rottame Se ne sono Andati tutti I rottami Va bene Comunque ragazzi Siamo riusciti A completare Questa Diciamo Missioncina Che Dall'inizio Del gioco Che cercavo Di Di risolvere E E cioè Distruggere Un convoglio Ci vuole Un pochino Di tempo Magari Un pochino Di Di pratiche Avendo capito La tecnica giusta Si Si velocizza Il tutto In ogni caso Spero che il video Vi sia piaciuto È un video Così corto Per far vedere Come si fa Questa cosa Come sono riuscito A fare questa cosa E niente Noi ci vediamo Al prossimo appuntamento Spero che il video Vi sia piaciuto Mettete mi piace Questi sono nemici E anzi Diciamo Erano nemici Mettete mi piace Ricondividete Commentate Iscrivetevi Se non vi è ancora fatto Ci vediamo Il prossimo video Grazie di tutto Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao